buongiorno amici di youtube 27 marzo 2024 sandro vi racconta questo video dopo parecchio tempo in questa giornata molto uggiosa vedete le nubi come sono basse su queste bellissime montagne ma un tempo che a me piace tantissimo mi dà molta serenità e anche molta voglia di camminare nei sentieri questo che sto percorrendo è il sentiero che arriva da vendrogno e stiamo arrivando nel paese di taceno vi faccio vedere queste sono le nubi grigie che primeggiano davanti alla mia visione e questo è il bellissimo campanile della chiesa dell'assunzione del comune di taceno questo è un clima che a me piace tantissimo nonostante la pioggia e vediamo il sentiero che porta verso vendrogno e qui in basso si vedono le prime abitazioni del piccolo borgo di taceno su in alto sulle cime c'è anche un po di nevischio che purtroppo è oscurato da queste nubi comunque un cielo che mi piace sono io sandro vi saluto da questo youtube del 27 marzo 24 ciao e al prossimo